Ciao ragazzi, benvenuti ancora un nuovissimo video di Brazo Crew Guarda un po' dove siamo? In carcere In carcere Insieme a... Se andate sul canale di Mike vedete le patatine in carcere Qua Che? Questo chi è? È Mike Shosha E lui? Sì Vado a tirare su E ciao a tutti amici, qui è il vostro caro Dexter E oggi sono qui insieme a Mike Shosha E apprezzo Crew Insomma ragazzi adesso qui in questa stanza succederanno delle cose Per vederle passate sui nostri canali Quindi canali mio, canali di Dexter Shosha E di tutti Questo è il letto finalmente separati da Mike Come finalmente? Finalmente l'altro volta siamo stati uniti Dicevi c'è l'eredito Il mio letto è questo Quanto ragazzi giocheremo, vedete i maxi schermi Mamma mia qua regata come a me perché non l'ho portata? Domani ragazzi faremo dei video spettacolari Con Matte e Bise Poi Pantellas Con i Pantellas Con Mike Shosha Stormi Dexter Il vostro Se non cazzo stava a fare reggione telecamera E i cavalli E i cavalli sulle tre punte Manco mi nonna Porca d'accia stocana Buongiorno ragazzi Buongiorno ragazzi Guarda guarda Chi è lì? Stanotte è editato Bravo Ha editato tutta la notte E su chi sa lavorare Hai capito? Hai capito Anna capita Anna caponsio Insomma ragazzi adesso andiamo a mangiare Fare colazione con patata al sugo la mattina No patata al sugo non ce la posso fare Questa notte io ho dormito Pronto? Aspetta Pronto? Sapete inagazzata? Ah Ok Vai Alla destra Senza motivo Basta Ti ho detto troppe stronzate Non lo faccio dormire manco stanotte Perché stanotte Ho russato come un maiale Perché ero Tutto con il naso chiuso 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 Vero? Perché stai facendo finta di parare al tele? È così Perché è radioformazione Sì ragazzi Questa notte È bravo Stanno aspetta Dai Andiamo C'è Stormi che sta fuori Senti Eccoci Dove stiamo andando? Stiamo andando a Pesaro Per la piera della zucchina Stiamo andando in una ridente località In provincia di Varese Tra l'altro ragazzi Andremo a incontrare il signor Giglio Che è un Che è un Che cazzo Che cazzo Il venditore dei tartufi No no Il signor Giglio Che è un ingegnere aerospaziale In cassa integrazione Ma che cazzo sei E andremo a scoprire la sua storia Io non lo metto a sta roba Eh infatti Ma che cazzo sei Niente ragazzi Dovevamo registrare anche con i Pantellas Ma i Pantellas Ci hanno abbandonato Perché Daniel sta male Con 38 39 di febbre Ragazzi Dovevamo registrare anche con Belen Rodriguez Che però non si è presentato No ma faremo il vlog in sauna con Belen Sì vai Vabbè che ha raggiunto 100.000 mi piace Ma che era Sì magari Se questo video raggiunge 100.000 mi piace Vlog in sauna con Belen Rodriguez No Non promette le cose che non sono fattibili Ma non è vero che non sono fattibili Potrebbe ma non è Ma l'hai vista ha detto potrebbe Quindi c'è una possibilità Scusa registrare Facciamo con una che assomiglia a Belen Rodriguez Cazorella Prendiamo Selen Selen Rodriguez No no Selen quella Dei 30 anni fa Ma che pulito Io culone Allora ragazzi siamo arrivati Stiamo dentro lo spogliatore Insieme a madre Grazie a me Sì Facciamo il fila Vai vai Raga jumpy deck fa schifo Fa freddissimo fuori Eccoci qui ragazzi Siamo arrivati in campo Le scarpe sono strettissimi Guarda un po' Stormy Dexter Ce sono io con la scritta Brazzo Mike Ciao ragazzi Dai ragazzi Dai 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 Fa freddo porco C'è maniche corte Maniche corte Abbiamo fatto un sacco di video Prestissimo su tutti i canali Sul mio canale Sul canale di Dexter Sul canale di Stormy Su quello di Mike Showsha In Matte e Bise Tutti Mancano i Panteras Come abbiamo detto Perché purtroppo Daniel stava male Allora ci vediamo dopo Guardate un po' La maglietta dietro Guarda Brazzo 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 Abbiamo finito Sì No non abbiamo finito Abbiamo quasi finito Quasi finito Adesso andiamo A fare la pappa A fare la pappa Poi andiamo a fare La challenge Sul canale di Matte e Bise Che best Che storica Questa è veramente nano Cioè raga Ciao Ciao Mike Showsha Che cazzo devi fare? Stanno a fare delle cose strane Non capisco cosa stanno facendo È qualcosa di assai misterioso Assai misterioso Perché se li guardiamo Stormy69 No regà Non potete capire Non potete capire il freddo Fa troppo freddo No abbiamo la Primavera e estate Stiamo vloggeggiando Guardate come stanno È il freddo Esce un po' d'aria calda Qua Questa è dei miei Un'acqua gelata Un'acqua gelata I piedi gelati Ah la galleria del vento caldo Davvero? Ah 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 No no che schifo Ah 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 Io ho sempre i guanti Non so se serviranno i guanti Però io ce l'ho Perché fa freddo Mi metti Paolo Stop per favore Che non c'è taccio Questo Qua 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 Dai Ok mi vola tutto No pausa No pausa Dai Ok ragazzi Questa giornata è finita Ci siamo fatti un mazzo tanto Siamo tutti rotti Ma rotti Ma rotti rotti C'è Dexter C'è Dexter che ha provato Molto E niente ragazzi 10.000 like per questo video 15.000 like per questo vlog No 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 17 17 Aggiudicato 17.000 like per questo video E vedrete dei video spettacolari su tutti i nostri canali A breve Brevissimo Allora vi saluto Un grande grandissimo abbraccio E al prossimo video Ciao Ciao